Abbiamo le proposte, ne abbiamo tante altre, l'abbiamo detto sui contratti di solidarietà, sugli ammortizzatori, sulla necessità di cancellare le ingiustizie della legge Fornero. Le proposte le abbiamo e lo diciamo con chiarezza al Governo e anche a Confindustria. Si può cambiare, lo si fa con il mondo del lavoro. Sappiate che se continuate a pensare di cambiare il Paese senza il mondo del lavoro, il mondo del lavoro continuerà ogni giorno ad essere nelle piazze e a chiedervi il cambiamento perché senza quelli che sono qua, quelli che sono al lavoro e quelli che il lavoro lo cercano, il Paese non lo si cambia e chi lo vuole cambiare contro di noi non è qualcuno che vuole il bene del Paese. Ma siccome noi a questo Paese ci crediamo, siamo in piazza oggi o saremo nei giorni prossimi, siamo allo sciopero generale il 5 dicembre perché noi un futuro per il Paese lo vogliamo e lo porteremo a casa. Arrivederci al 5!